In questo video vogliamo mostrarvi con pochi passaggi il modo corretto di lavorare la nostra miscela biochicco. Macinare dai 7,5 a 8 grammi di caffè con una granulometria corretta per espresso. Verificare il peso. Rimuovere molto bene il caffè esausto dalla doccetta e poi, con l'ausilio di un panno, anche dal portafiltro. Inserire il caffè macinato nel portafiltro. Distribuire in modo omogeneo la dose di caffè. Livellare con il pressino e pressare con una forza da 10 a 20 kg. Inserire il portafiltro in macchina e azionare il pulsante per l'erogazione. Consigliamo una preinfusione di 3 secondi con una pressione atmosferica della macchina a 1,1 e la temperatura dell'acqua da 94 a 95 gradi. Il tempo di erogazione sarà di 20-25 secondi per un'estrazione di 20-25 millilitri. Una miscela di selezionati caffè biologici tostati separatamente. Una tostatura media, 90% arabica e 10% di robusta. Color nocciola con una tela uniforme e una crema compatta. Delicata e aromatico. Dolce, con una leggera acidità con note floreali. Grazie per la visione!